Sì, oggi presenteremo il libretto Catanzaro Sicura, che è un altro tassello che abbiamo messo dopo un anno di attività al gruppo comunale diretto dal sindaco, che nel Presidente, per aiutare la popolazione, per far capire alla popolazione l'importanza della divulgazione delle aree di attesa, delle aree di ricovero, se per caso dovesse succedere una calamità naturale. Questo è fondamentale perché così tutti i cittadini sanno dove si devono dirigere, sanno come si devono comportare, sanno che cosa devono fare durante un'allerta come c'è stato negli ultimi periodi data matrice del centro Italia. Il sindaco è stato molto interessato e ci tiene molto a questa iniziativa perché è il primo cittadino e responsabile della protezione civile comunale. Parte un po' da lontano perché già da qualche anno abbiamo attivato delle linee di intervento a sostegno delle realtà delle associazioni di protezione civile del territorio, riuscendo ad abbozzare in qualche modo una sorta di rete fra le associazioni che si occupano di questi aspetti sul nostro territorio. Collaborazione che si è concretizzata già nel mese di giugno con la realizzazione di un'esperienza di tre campi di protezione civile per ragazzi fra gli 11 e 14 anni che hanno potuto esperienziare quelle che sono le tecniche e l'operatività della protezione civile e che ovviamente contiamo di ripetere. In continuità con questa esperienza anche su proposta del gruppo comunale di protezione civile e dell'associazione Gerov abbiamo affrontato il tema del piano di emergenza del comune di Catanzaro che era stato approvato dal comune e abbiamo ritenuto anche sull'ora sulle citazioni che fosse importante avviare un'opera di divulgazione del piano stesso in modo da rendere consapevole e da mettere a conoscenza la cittadinanza di quelli che sono i rischi e delle modalità di comportamento da utilizzare in caso di alluvione o terremoto. Oggi lo presentiamo e da gennaio, anche grazie alla collaborazione del gruppo comunale di protezione civile e dell'associazione Gerov, inizieremo un'attività di divulgazione che coinvolgerà anche le scuole del nostro territorio. Sì, oggi è importantissimo, è una giornata importantissima perché si presenta questo opuscolo di Catanzaro Sicura realizzato dal gruppo comunale di protezione civile di Catanzaro al quale abbiamo collaborato davvero con molta disponibilità perché è importante sotto due aspetti, sia da un punto di vista di prevenzione e previsione dei rischi e quindi informazione alla cittadinanza di quello che è lo strumento principale in caso di emergenza che è il piano di emergenza comunale e soprattutto anche per la collaborazione che si sta paventando con le associazioni di volontariato di protezione civile e io anche nella duplice veste di consigliere del CSV, del centro servizio al volontariato di Catanzaro proponiamo questo tipo di rete, questo tipo di collaborazione tra le associazioni di volontariato di protezione civile che culmina oggi dopo una serie di eventi che sono partiti dai campi di protezione civile che abbiamo fatto insieme al gruppo comunale, insieme ad altre associazioni, agli angeli della sede di pentone e ad altre associazioni di volontariato di protezione civile ma poi siamo passati anche per la campagna di non rischio è stata fatta ad ottobre qui a Catanzaro, Geruv e il gruppo comunale e oggi culmina dopo altri passaggi presso associazioni, presso incontri che abbiamo portato avanti insieme e culmina proprio con la presentazione di questo libretto diciamo che è un culmine ma anche un inizio perché da oggi in poi inizierà anche un'attività di divulgazione che continueremo a fare insieme proprio per poter portare alla cittadinanza e offrire alla cittadinanza uno strumento come buone pratiche di protezione civile uno strumento di autoprotezione e uno strumento che porta il cittadino all'interno del sistema di protezione civile perché il cittadino ricordiamo fa parte del sistema di protezione civile